È notizia di oggi che Imperia è stata confermata dalla ricerca del Sole 24 Ore come la città con il clima migliore d'Italia. Sì, nel senso che questo dato lo sapevamo già tre anni fa e c'era stato conclamato attraverso le pagine del Sole 24 Ore. La ricerca che è triennale su dati statistici, che è uscita adesso, quindi questo non è quel sondaggio di opinioni strambi che fa anche il Sole 24 Ore. Questi sono dati statistici che mettono insieme l'umidità, l'insolazione, le precipitazioni, il vento, le oscillazioni di temperature durante la giornata. Sono dati scientifici che messi insieme danno conferma ancora oggi che Imperia ha il miglior clima d'Italia e questo ci fa piacere. Però non basta il clima per creare turismo e fare sviluppo, ma è una condizione importante se sappiamo valorizzarla.